Così, un dici ragazzini a casa dei Loud! Tra poco, a casa dei Loud, su Super! Dal 21 al 25 novembre, voce alle ragazze! Per parlare di Girl Power, su Super arriva un ospite speciale! Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono Carlotta Bertotti, mi trovate qui su Super e affronteremo insieme argomenti importantissimi come la diversità, il divario di genere, l'amicizia e la fiducia in se stessi. Vi aspetto dal 21 al 25 novembre alle ore 20. Girl Power! Solo su Super! La magia di Harry Potter ti aspetta, con la nuova civetta Edvige! Curala e affidale la lettera, reagisce alle carezze e alla tua voce, scopri il cappello parlante e a quale casa appartieni. Edvige il cappello parlante di Harry Potter, da Spin Master. Di chi è quel cane? Ha bisogno di spazi aperti, non fa che scappare. Non pensarci proprio! Belle e Sébastien tornano al cinema. A chi interessa un cane che mangia? Le metto su Instagram, qua la zampa! Nuove avventure. Ditemi dov'è il mio cane. Io non lo so. Per una nuova generazione. Attenza! Scappa! Belle e Sébastien, Next Generation. Dal 17 novembre, solo al cinema. Costruisci pezzo dopo pezzo il Globo Night Edition con i LED e il fantastico sistema solare. Scopri il misterioso universo con i Puzzle 3D Ravensburger. Ravensburger! Gravitrax, la pista di biglie del futuro. Fai sfrecciare le biglie a tutta velocità e con Gravitrax Pro raggiungi altezze vertiginose. E costruisci piste spettacolari. Gravitrax e Gravitrax Pro, un divertimento infinito. Gravitrax. Divertiti aspettando il Natale con il calendario dell'avvento di Gravitrax. Gravitrax e Gravitrax Pro, un divertimento infinito. Gravitrax Pro, un divertimento infinito. Divertiti aspettando il Natale con il calendario dell'avvento di Gravitrax. Acchiappa la cucaraccia! Lo scarafaggio elettronico fugge nella cucina, ma se lo catturi, hai vinto! La cucaraccia! Gravitrax Pro, un divertimento infinito. Il notino Black Friday è arrivato. Acquista subito prodotti per la tua bellezza su un notino e non perdere sconti fino al 30% sui prodotti e marchi più popolari. Ad esempio, Clinique, Schwarzkopf Professional o Lalique. Basta inserire il codice notino nel carrello. Notino! Cry Babies! I nuovi Cry Babies Dinos! Con gemme brillanti! Casette i clou! E tanti accessori! Andiamo a pattinare! Wow! Le lacrime magiche rivelano un cucciolo a sorpresa! Dinos the icy world! Cry Babies! E non perderti la grande casa di Dreamy! Ha tantissimi accessori! Cry Babies! Cry Babies! E Jenna, non piangere! Ecco il ciuccio! Ed ora addormentiamoci sotto magiche stelle! E con dolci ninna nanne! Buonanotte! Lei è Sofia, la piccola della famiglia. Mi sa che i vestiti delle sue sorelle non fanno per lei. Ma su Vinted trovo tantissimi capi adatti al suo stile. Vinted, scarica l'app! Benvenuti nella casa delle bambole Playmobil! Tante stanze da arredare! E tanti accessori per giocare all'infinito! È bellissima! Inventa meravigliose storie e poi chiudila! La porto sempre con me! La casa delle bambole Playmobil! Da Playmobil... Ah, eccoci a un nuovo ranch dei poni! Benvenuti! Finalmente una città tutti insieme! Che bello! Oh, mi son mancata anche tu! È ora della merenda! Forza Figroni! Entra anche tu nel mondo dei poni Playmobil! Le leggende non aspettano mai! Nell'espansione Spada e Scudo Tempesta Argentata del gioco di carte collezionabili Pokémon! Disponibile nelle edicole e nei negozi! Ogni busta di espansione da 10 carte venduta separatamente le carte variano a seconda delle buste! Al Super Salone di Bellezza posso coccolarmi con colori e profumi spray per sfumatore e uniche! Facciamo un bagno e cambiamo look! Con stickers e vestitini sono una vera diva! Nuovi colori e il gioco ricomincia! Il Super Salone di Bellezza da Crayola! Ha inizio una nuova giornata dove puoi fare quello che vuoi! La vita sulla tua isola deserta può essere pericolosa ma il segreto è attrezzarsi essere pronti ad affrontare qualche avventura e darsi da fare per raccogliere ciò che ti serve a costruire l'isola dei tuoi sogni! Animal Crossing New Horizons è solo su Nintendo Switch! Di cosa hai voglia oggi, ciccio bello? Pappa! Pappa mela o lattino? Ciccio bello, pappa sì, pappa no! Dicela con una testina! Forse vuole il biberon! Oh no! Magari un po' di frutta! Aha! Benvenuti nella casa di Bluey! Bingo ha già fame, è ora di cena, poi un bel bagno e tutti a nanna! Perché domani si parte con la macchina di Bluey! Tutti i personaggi di Bluey li trovi anche in edicola! Giochi preziosi! Il palazzo dell'amicizia di Heartlake City! Giochi preziosi! Giochi preziosi! Con tantissimi negozi! E colorate bancarelle per gustare frullati di tutti i gusti! Lego Friends, giocare insieme è più bello! Prossima fermata? Dovunque tu voglia! Scopri il nuovo treno passeggeri espresso di Lego City! Scegli tu la prossima destinazione! Con Crazy Chic Clementoni, entri nel mondo della nail art, dove chi realizza splendide creazioni sei tu! Dai sfogo alla tua creatività, applica i colori più trendy dell'anno e decorali con gli sticker e la penna spara glitter! E se ami tatuaggi, non perderti Tattoo Studio! Clementoni, tutti i mondi che immagini! L'insalata russa e il pomodoro dorme! Leo, che diventa più bravo di me con le barzellette! Io non la sopporto più, quando è che te ne vai via Parigi? Mattia e Anaïs, che non si vogliono più vedere! Hai visto come Aldo guarda la mamma? Come? Sono innamorati! E anche i giucci amorosi, secretissimi! Beh ragazzi, volete sapere che altro succederà nella Super House? Capisco Super House e chiedo un riscatto! Aspetta, lasciami almeno dire che sono arrivati nuovi episodi! Dall'oledì a venerdì alle 7, alle 15.50 e alle 18.50 e in prima tv su Super! Aiuto! E ora, a casa dei Loud, su Super!